Di Shlomo Venezia, Sonderkommando, Auschwitz. Mi chiamo Shlomo Venezia, sono nata a Salonico, in Grecia, il 29 dicembre 1923. In famiglia eravamo cinque figli, due maschi e tre femmine. All'orizzonte si profilava la guerra, anche se noi non ce ne rendavamo conto fino in fondo. I responsabili della comunità si riunivano per parlarne, erano inquieti e consultavano la Torah per interpretare gli avvenimenti. Per noi, come ho detto, era tutto lontano. Ci erano arrivate alcune voci sulla Germania, ma tutto quello che sapevo era che il regime tedesco ce l'aveva con gli ebrei. Avevamo talmente fame e così tanti problemi quotidiani che non ci restava il tempo per interrogarci sul futuro. Per questo, più tardi, i tedeschi non hanno avuto alcuna difficoltà a deportare gli ebrei dalla Grecia. Dicevano che ci avrebbero dato un'abitazione in base alla grandezza della famiglia, che gli uomini sarebbero andati a lavorare e le donne sarebbero rimaste a casa. Eravamo ingenui e non sapevamo niente di politica. E poi, per noi tedeschi erano un popolo rigoroso e onesto. Quando si comprava qualcosa made in Germany funzionava bene, alla perfezione. Le persone hanno creduto alle promesse di una casa in cambio di lavoro. Ci hanno preso il giorno della festa nazionale greca, il 25 marzo, e siamo rimasti in prigione una settimana. So che il treno è arrivato ad Auschwitz l'11 aprile 1944 e mi sembra che il viaggio sia durato 11 giorni, quindi deve essere stato il primo aprile, il giorno della nostra partenza. Dentro i vagoni in cui venimmo spinti violentemente non c'era nulla, solo le assi per terra, un grande bidone vuoto nel mezzo e un altro più piccolo con dell'acqua. In un angolo vidi tre casse di uva pasta e di carote. Lo spazio a disposizione era poco. Quando entrammo tutti nel vagone, comprendemmo che sarebbe stato impossibile allungarci e che al massimo avremmo potuto rimanere seduti durante il viaggio. Nel vagone non avevamo spazio per muoverci. Per preservare un po' di intimità avevamo disteso una coperta che separava gli uomini dalle donne. Una seconda coperta era utilizzata per isolare il bidone che serviva per fare i bisogni. Potevamo appena muoverci non riuscì neppure ad avvicinarmi a mia madre e comunque in genere non parlavamo molto. Ognuno era immerso nei propri pensieri, oppresso dalla propria infelicità. Quando sentì quel fischio così particolare e una frenata brusca, compresi che il convoglio era arrivato a destinazione. Le SS che stavano aprendo le porte del vagone cominciarono a urlare Alle runter! Alle runter! Tutti giù! Tutti giù! C'erano uomini uniformi che ci puntavano contro i mitra e dei pastori tedeschi che abbagliavano. Eravamo stravolti, intontiti dal viaggio e quelle improvvise quanto feroci urla, quel bacquano infernale, servivano proprio ad estabilizzarci a impedirci di capire cosa stava succedendo. Cominciavano a picchiare fin dal primo momento per sfogarsi e per crudeltà, per farci perdere qualsiasi punto di riferimento e costringerci a obbedire per paura, senza troppe storie, ed è quello che feci anch'io. Mentre noi scendavamo dal treno, i tedeschi con le fruste e a forza di botte formavano due fili, spendendo le donne e i bambini da una parte e gli uomini, senza alcuna distinzione, dall'altra. Il gruppo in cui ci ritrovammo, io, mio fratello e i miei cugini, venne inviato a piedi fino ad Auschwitz 1. Erano all'incirca le dieci di sera quando arrivamo a Birkenau. Entrammo quindi nella central sauna, un grande edificio in mattoni che serviva alla disinfestazione di uomini e dei vestiti. Chi non era stato messo in disparte passò alla sala seguente, dove erano allineati i barbieri, che dovevano rasarci la testa, il torace e il resto del corpo. Non avendo negli strumenti giusti né sapone, ci scorticavano a sangue. Nella sala successiva c'erano le docce. Era una grande stanza con dei tubi e dei rubinetti da doccia in alto. Era tutto organizzato, come in una catena di montaggio, di cui noi eravamo i prodotti finali. Man mano che avanzavamo, altri prendevano il nostro posto. Sempre completamente nudo e bagnato, percorsi la catena fino alla sala del tatuaggio. C'era un tavolo lungo, dietro cui avevano preso posto numerosi prigionieri incaricati di attuarci il numero di matricola sul braccio. Usavano una specie di penna con una punta che bucava la pelle e faceva entrare l'inchiostro. Bisognava fare queste piccole punture fino a quando il numero non compariva sul braccio. Faceva molto male e appena l'uomo che mi tatuava mi lasciò il braccio, sfregai l'avambraccio con la mano per attutire il dolore. Quando guardai per capire cosa mi avesse fatto, non si vedeva più niente sotto la poltiglia di sangue e di inchiostro. Mi spaventai, pensando di aver cancellato il numero, e con un po' di saliva pulì il braccio fin quando vidi apparire il numero che era stato iniettato. Uno, otto, due, sette, due, sette. La mia matricola. Dopo aver ricevuto i vestiti, sentì, senza riuscire a scorgerlo, mio fratello che mi chiamava. Shlomo, dove sei? Si trovava proprio vicino a me, ma non ci eravamo riconosciuti. Non avevamo più capelli, indossavamo dei vestiti che non ci andavano bene. Fu forse uno dei momenti più tristi, vedere in quale stato eravamo ridotti. Ma non piansi, anche quando seppi di mia madre. Il rubinetto delle lacrime si era bloccato. Non piangevo più, malgrado la tristezza e il dolore. Alla fine della terza settimana di quarantena si presentarono degli ufficiali tedeschi che solitamente non si facevano vedere qui. Gli ufficiali si fermarono davanti alla nostra baracca e ordinarono al capo di disporci in fila, come per l'appello. Ognuno di noi dovete dichiarare che mestiere faceva e sapevamo tutti che bisognava mentire. La mattina del giorno dopo, verso le nove, ci incamminammo in fila verso il settore B secondo D, il Lager D, il settore maschile di Birkenau. La prima impressione entrando fu violenta. Il Lager D era composto di due file di baracche. Le prime due, più grandi delle altre, servivano da cucina. Al centro di una fila si trovava quella del Sonderkommando, la nostra destinazione. Il comando al quale eravamo stati destinati si chiamava Sonderkommando. Cosa vuol dire Sonderkommando? Comando speciale. Speciale perché? Perché lavoriamo nel crematorio dove la gente viene bruciata. Per me un lavoro valeva l'altro. Mi ero già abituato alla vita del campo. Non mi spiegò però che i cadaveri da bruciare erano quelli di persone che entravano vive nel crematorio. Sempre da lui seppi che tutti coloro che facevano parte del Sonderkommando venivano selezionati e trasferiti in altro luogo, ma io non compresi subito che le parole selezione e trasferimento erano degli eufemismi che significavano in realtà eliminazione. Tuttavia non ci misi molto a capire che eravamo stati integrati nel Sonderkommando al posto di altri prigionieri selezionati e uccisi.